Non si placano i malumori per la politica di Montecorice, sulla quale sta discutendo l'intero Cilento. Dopo la decisione del sindaco Pierpaolo Piccirilli di revocare i ruoli di assessore, vice sindaco a Filomena Lamanna e Pasquale Tarallo, per motivi ancora poco chiari, arriva un'altra scelta che ha dell'incredibile. Nominata la nuova giunta comunale, il ruolo di vice sindaco va a Raffaele Del Mastro, consigliere di minoranza e capo dell'opposizione, a Roberto Malzone, appartenente alla maggioranza, il restante ruolo di assessore. Riguardo la vicenda arriva il commento incredulo di Pasquale Tarallo, ormai ex vice sindaco. Per perseguire gli obiettivi programmatici, il sindaco nomina vice sindaco il capo dell'opposizione. Ha azzerato, dopo l'aggiunta, anche il risultato elettorale, siglando di fatto un patto per le prossime elezioni, pensando così di garantirsi la terza rielezione. Tarallo, nel suo commento sui social e inoltre invita i rappresentanti politici di Montecorice a reagire. Dalla maggioranza e dal Consiglio Comunale ci si aspetta uno scatto di dignità nel rispetto del risultato elettorale e dell'interesse pubblico che questo accordo calpesta e omilia, una cosa mai vista, sottolinea Tarallo. In effetti una situazione unica nel suo genere che per molti sembrerebbe legata ad accordi fra i due esponenti politici delle fazioni.